Is there anyone who doesn't speak Italian here? No? Fico, parliamo italiano. Ok. No, perché avevamo detto che l'avremmo potuta fare anche in inglese. Sento sollevato. Allora, buonasera. Oggi siamo qui per parlarvi di IndieWeb e in generale cercare di trovare un'alternativa ai social network centralizzati. Non stiamo parlando di protocolli distribuiti per la cronaca, stiamo parlando di puro e semplice HTP e compagnia bella, così come esiste adesso. Io sono Clez. In questa bellissima foto sarei anche elegante, come mi vedete adesso no. Di base sono uno sviluppatore, principalmente sviluppatore web. Sono cofondatore del Maestra Club. mi occupo di privacy, diritti digitali e quant'altro, sia io che il resto della club tendenzialmente. Ci tengo molto al free software. Abbiamo un podcast su una web radio qui di Padova dove ci occupiamo di questi temi. Sono anche una persona che adora il web e odia il web, nel senso che da un certo punto di vista ci sono un sacco di cose stupende nel web e ci sono anche un sacco di cose che non ci piacciono e in parte le vedremo oggi. e poi c'è Righez, ovvero io, e come vedete la foto è fatta in emergenza, così, intanto per, non è seria come quella del compagno Clez. Penso di essere un software developer, ma chissà, sinceramente, a lavoro qualche cappella la faccio ancora. Sono un membro anziano del Mestra Club dal lontano 2012. Sono un supporter per la privacy digitale. Faccio attivismo con il buon Clez qui a fianco. Sì, diciamo, quando posso supporto il free software. Non sono nazi come Clez, che veramente ha i paraocchi. Ogni tanto ho anche io qualcosa di sproprietario, purtroppo. Contribuisco al podcast che facciamo insieme a Clez e qualche altro anonimo, così amiamo di finirci durante questi podcast che non diciamo i nostri nomi. Sì, diciamo che la passione è più che altro per la sicurezza informatica, anche se sviluppo. Ho messo che non sono quasi non rintracciabile nel web, perché non mi piace farmi vedere come è il buon Clez. Infatti ho Facebook, effettivamente, ma non lo uso da tot anni. È lì, fermo, imbalsamato, diciamo. Purtroppo vorrei non averlo, anche perché parliamo di cose anti-Facebook oggi, ma mi serve per qualche persona che purtroppo sento solo lì. Per cui scusate il conflitto di interessi. Sono un gamer, vabbè, software proprietario purtroppo. Mi piacciono le sigarette elettroniche e sono odiato da Clez durante i podcast perché riesco sempre a beccare fake news, purtroppo. Per esempio, stiamo parlando di Cina e lui becca notizie da Radio Free Asia che è una cosa sponsorizzata dalla CIA, ma non importa. Comunque, come siamo messi al momento? Siamo messi che la situazione, qualcuno che cerca di comunicare, è questa. Ovvero, 3 miliardi di protocolli, 3 miliardi di applicazioni, ognuno usa applicazioni diverse che non comunicano le une con le altre. Mi sono accorto adesso, non l'avevo visto prima, che c'era Apache Request Log lì come forma di comunicazione. E vabbè. Quindi la situazione oggigiorno è questa. Tutte queste piattaforme tra loro non comunicano, nonostante una volta qualcosina ci si riuscisse, qualcosina ci si riuscisse tipo Gtalk e Facebook entrambi supportavano Xamp come protocollo ed erano quindi accessibili da altri server. Un altro segno dei tempi sono tutti i vari casini che ci sono stati quest'anno con Cambridge Analytica, nel senso tutte le cose che sono state scoperte rispetto al fatto che qualcuno abbia minato i social network in cerca di opinioni, politiche, reti di amicizie e quant'altro per avere un vantaggio durante le elezioni, quantomeno durante la campagna elettorale, soprattutto negli Stati Uniti e nel sondaggio per la Brexit e questo ha scatenato una campagna fallimentare sui social media che è stata Delete Facebook in cui la gente veniva invitata appunto a cancellare il proprio profilo, poi all'atto pratico, adesso non mi ricordo esattamente i numeri ma è stato abbastanza fallimentare nel senso non c'è stato un calo tanto diverso rispetto al calo che ha Facebook negli ultimi anni non c'è stato niente di eclatante ma io non sono qui per parlarvi solo di Facebook lo faccio già abbastanza durante il resto della mia vita oltretutto il problema non è solo Facebook ovviamente sono i cosiddetti Fagam o come diavolo vengono definiti in gruppo queste cinque aziende che principalmente vivono di Apple meno di tutti ovviamente però dati degli utenti fondamentalmente comprano, scambiano, vendono dati cosa dovremmo fare date il benvenuto all'indie web con questa stupenda world art di cosa stiamo parlando stiamo parlando di base di undici principi che dovrebbero governare il nostro uso cioè il nostro modo di avere una presenza nel web quindi bisogna possedere i propri dati cioè avere come dire possesso dei propri dati usare e pubblicare dati visibili questa la vediamo un po' più in dettaglio più tardi cosa vuol dire questa non sono mai riuscito a tradurla in italiano ma grattatevi i vostri pruriti nel senso che se c'è qualcosa di cui avete bisogno che non è fornito da tool standard createvelo usate quello che fate quindi non è che sviluppiamo cose perché le usino gli altri sviluppiamo cose perché le usiamo noi in prima persona documentate quello che fate perché può sempre essere utile a qualcun altro open source vabbè non sto neanche a spiegarlo UX design è molto più importante dei protocolli nel senso prima cerchiamo di capire come quello che stiamo cercando di implementare verrà usato poi ai protocolli ci pensiamo poi costruire protocolli che non siano dipendenti dalla piattaforma quindi questo vabbè a parte la cosa ovvia che funzionino su qualsiasi sistema operativo anche il fatto che se faccio una una cosa non deve essere limitata per esempio a WordPress deve essere una cosa che può essere utilizzata attraverso dei protocolli da qualsiasi altra piattaforma di publishing puntare alla longevità perché molto spesso i link che troviamo in giro nel web sono morti non puntano da nessuna parte pluralità quindi usare strumenti eterogenei usarne il più possibile e soprattutto divertirsi perché prima di tutto per avere controllo e agenzia su quello che stiamo diffondendo nel momento in cui i miei dati sono in un silo cosiddetto nell'ambito dell'indie web ovvero Facebook Twitter qualcosa che non controllo io e che è un punto centrale di fallimento se casca Twitter i vostri tweet sono andati deve essere incentrato sull'autore quindi il il primo fruitore di questo servizio è chi scrive non è chi chi ci guadagna fondamentalmente e deve essere robusto come come si implementa cioè come si fa l'indie web prima di tutto comprarsi un dominio perché è un'altra di quelle cose che dobbiamo possedere è la mia identità sul web e quindi è il il primo modo in cui mi presento al mondo prendere dello spazio dove stare il proprio sito fare un sito poi chissà e profit ovviamente ci sarà qualcosina di più da dire ovviamente sì in particolare quando prima vi ho parlato di dati visibili parlavo di microformati che sono un retaggio di una decina di anni fa che si è provato a spingere nel nel mondo dell'HTML ma che non ha fatto tanta presa la cosa forse dove li vedete più spesso oggi giorno sono i bottoncini di Creative Commons che hanno una parte che è machine readable in questo caso questa è una vcard ovvero è il mio biglietto da visita quello che definisce chi sono io cioè la mia identità il mio profilo per capirci com'è fatta è fatta da appunto un div con questa classe qui vcard poi ci sono delle note in cui ogni componente della mia presentazione adesso non si capisce niente poi ve la faccio vedere renderizzata in cui ogni componente della mia presentazione ha una una sua classe quindi Federico io che è given name nickname clez family name kulloca vabbè qua c'è il resto della descrizione qua c'è una un'organizzazione che è un link al sito del Mestra Club perché è l'organizzazione di cui parte e fondamentalmente basta poi c'è la foto segnata appunto come ufoto con quella classe lì e il risultato di tutto questo è questo è semplicemente html non c'è niente di particolarmente di particolarmente nuovo rispetto a come questa cosa verrà presentata però la cosa interessante è che quella cosa è machine readable quindi c'è un sito a cui voi date in pasto la pagina dove si trova il vostro profilo e che estrae tutte le parti della presentazione quindi Federico Kleskulloka come nome la mia foto il mio url qua mi sta suggerendo di aggiungere la mail ma colpifero che ce la aggiungo e qui c'è il testo della mia presentazione la nota vera e propria quindi appunto un modo perché un programma esterno che ne so il blog di qualcun altro che ha bisogno di fare riferimento al mio profilo perché ho commentato il suo blog può recuperarsi la mia identità prendere nome cognome nick foto e link e schiaffarlo nella sua sezione commenti poi vedremo come un'altra cosa possiamo utilizzare degli standard cioè di protocolli standard in questo caso o out per usare il nostro sito come forma di autenticazione per cui io semplicemente nel mio sito metterò dei dei link che puntano dai miei profili che supportano o out come può essere twitter o github e li segnerò come rel uguale mi è l'unica è l'unica aggiunta che bisogna fare rispetto a un link normale la stessa cosa verrà fatta lato github e twitter nel momento in cui voi nel vostro profilo sia cioè sul sito quando riempite la sezione sito del vostro profilo twitter o del vostro profilo github su twitter e github quelli vengono automaticamente assegnati come rel uguale mi come abbiamo fatto lì questo è il risultato renderizzato niente di che però se io vado su indieweb.org che è il sito di riferimento per questo genere di cose ha visto che una volta che gli ho dato in pasto il mio sito ha visto che ci sono questi due link e mi permette cliccando su quello di github per esempio di autenticare il mio autenticarsi come applicazione di github per farla semplice nel momento in cui io l'autorizzo sono logato sul wiki di indieweb usando semplicemente il mio sito e un profilo social di cui ovviamente qua non si vede perché ero già logato in github ma ovviamente mi ha chiesto le credenziali ok un'altra cosa è own your data come dicevamo all'inizio avere i propri dati in proprio possesso in particolare i post questo è un blog fondamentalmente anche qui abbiamo dei microformati che mi descrivono un articolo che è un i-centry che è composta da un titolo un url bla 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 un sacco di piccoli dati un'altra cosa importante sono i permalink nel senso che i vostri articoli dovrebbero essere a un indirizzo che non cambia mai quindi per esempio dargli l'id del post un giorno faccio una migrazione e quelli di cambia migro un'altra piattaforma quelli di cambia no meglio avere dei quelli i link seo friendly per capirci nel senso qualcosa che è quello e non cambierà mai anche nel momento in cui migrassi a un'altra piattaforma e poi vabbè tra le altre cose ci sono la data di pubblicazione da qualche parte dovrebbe esserci anche il fatto che io sia l'autore forse qua non si vede vabbè non importa poi c'è il contenuto e anche questo viene renderizzato come normalissimo html e però è machine readable quindi ha visto il titolo del post ha visto che l'autore sono io qui ha visto vede il contenuto poi vede la data di pubblicazione l'url stabile diciamo e l'url delle copie imposse poi vediamo cosa sono e la categoria del blog perché tra gli altri dati che ho aggiunto al post c'è la categoria che tipi di articoli si possono pubblicare cioè di post si possono pubblicare qualsiasi cosa articoli foto micropost quindi possiamo avere il nostro twitter personale senza dover postare su twitter recensioni quindi perché postare una recensione solo su amazon su goodreads o quel cazzo che è nel momento in cui le recensioni posso averceli direttamente sul mio sito commenti risposte ad altri post poi vedremo come ripost quindi mi è piaciuto un articolo ribloggo ritwitto come lo volete definire video eventi risposte eventi cioè parteciperò non parteciperò qualsiasi cosa nel momento in cui ci sono un tot di protocolli che oggi non vediamo per questioni di tempo però ci sono un sacco di protocolli per gestire eventi riposte eccetera e quindi tutto molto bello ma qua stiamo semplicemente parlando di un blog quando è che tutto questo diventa social il modo più semplice è posse quello che vi stavo dicendo prima publish on your own site syndicate elsewhere quindi io pubblico sul mio blog dopodiché del software sul mio blog o io manualmente prendo e faccio una copia di quello che ho postato sui vari siti sui vari silo quindi social network twitter facebook instagram quello che è la maniera più corretta di farlo invece dal punto di vista di indie web sono le cosiddette web mention questo è un protocollo del raccomandato dal v3c e si compone di questi quattro semplici passi che adesso righez andrà a descrivervi allora semplici diciamo a occhio inesperto secondo me perché mi sono andato a vedere tutta la specifica e in realtà non è tutto qui ok questa è la base nel senso che voi avete il vostro sito ovviamente magari non lo fate da zero il sistema per fare web mention ma vi appoggiate a un sistema esterno che le fa per voi dopo vediamo quali ce ne sono alcuni il diciamo il protocollo che è basato su http cosa fa quando voi create un post di qualsiasi genere e state magari come dire vi state riferendo a un altro post e state commentando in qualche modo il post di qualcun altro inserite il link a quel post a quel punto pubblicate l'articolo e il sistema in automatico si spera dovrebbe andare diciamo a scoprire punto 2 il l'endpoint ovvero come se fosse una pagina di landing per accettare le web mention del diciamo post al cui voi vi siete riferiti a quel punto il sistema automatico dovrebbe accettare quella web mention notifica il vostro sistema automatico punto 3 del fatto che è stata accettata la menzione diciamo che voi la citazione scusate effettivamente sì il punto 2 va a vedere dov'è l'endpoint delle web mention perché non è che possiamo sparare a un url diciamo a caso il nostro ping del tipo dobbiamo dire ok voglio riferirmi a un dominio dove noi abbiamo preso un post da commentare andiamo a scoprire dov'è diciamo la pagina che va a effettivamente elaborare questa web mention e quindi a quel punto il 3 notifichiamo il dominio in questione dicendogli guarda che ti ho linkato ti ho nominato nel mio post e il punto 4 appunto come diceva il buon klez è che mi prendo diciamo un ping back praticamente una accettazione di notifica e ho l'accettazione del del commento da parte del del ricevente ed ecco qui come vedete semplicemente menzionare un link questo è il nostro target diciamo è il sito da cui stiamo prendendo il commento qui andiamo a fare una richiesta HTTP per andare a scoprire dov'è l'endpoint di web mention e la cosa particolare è che in questo caso basandosi su HTTP scusate ci si basa prima su questo link e questa è la cosa particolare il rel web mention ovvero andiamo a specificare che noi vogliamo sapere dov'è l'endpoint ha detto a queste cose se non lo trova qui al lato diciamo della di quando inviamo la richiesta se non trova questo link va a vedere l'head dell'html se non lo trova nemmeno nell'head web mention va a vedere nel body diciamo che va a scalare e prende il primo perché potrebbero essercene più di una dipende da come è implementato il vostro sistema prende la prima o nell'header o nell'head o nel body e qui abbiamo una risposta o me scusate ancora sto sbagliando qui dopo che abbiamo scoperto dov'è l'endpoint di web mention andiamo a fare una richiesta post http con basilarmente due come vedete argomenti un sorgente ovvero il nostro post sul nostro sito e il target ovvero il post che noi abbiamo nominato che vogliamo commentare o likeare o vedetela come volete dipende dalle implementazioni chiaramente e qui semplicemente il fatto che è stato accettato tra l'altro per questioni di sicurezza per evitare dosing si auspica il v3c poi trattiate queste richieste di web mention se vi arrivano assincronamente altrimenti potreste trovarvi bombardare web mention e questo semplicemente è l'ultimo passaggio ovvero che avete una risposta che vi dice http200 ovvero ok e vi da il link effettivo al post che come diceva il buon clez dovrebbe essere scusate effettivamente non ho fatto bene i compiti per casa a quanto pare contiene effettivamente un link al post del target ovvero a chi vogliamo menzionare ma perché perché dobbiamo essere sicuri che esista perché potrebbe essere stato spostato come diceva il buon clez perché l'urla dovrebbe essere non dinamico ma statico ovvero che non cambia mai per questioni di verificare che effettivamente chi mi sta menzionando abbia effettivamente menzionato semplicemente che la in questione si è effettivamente ok sta andando ci sono varie implementazioni varie parti del provo provo ok implementazioni ce ne sono una valanga nel senso che per esempio web mentions non ve le dovete implementare voi c'è un servizio che è webmention.io che vi permette di ricevere web mentions ma non è il focus di oggi abbiamo quasi finito giuro qua diamo un'occhiata ai vari CMS WordPress ovviamente se volete pubblicare qualcosa è il modo più veloce ed è adattabile a gestire tutto quello che abbiamo visto oggi known è una piattaforma che è stata sviluppata appositamente per l'indie web nel senso che ha già tutto pronto per fare questo genere di cose Drupal si pure Drupal Jekyll che è un generatore statico scritto in ruby quindi voi gli date del testo lui butta fuori dell'html poi voi quell'html lo caricate sul vostro hosting Pelican stessa roba ma scritto in python ed è quello che uso io personalmente perché mi permette di aggiungere tutte le varie parti in maniera molto semplice e un sacco un sacco d'altri se per caso non trovate quello che vi serve ricordatevi il punto 3 ovvero grattatevi i vostri pruriti nel senso se una cosa non esiste createvela perché è parte del divertimento detto questo vi lascio qui un po' di link su quello che ci siamo detti oggi il wiki di IndieWeb dove trovate in maniera molto più chiara tutto quello che vi abbiamo detto oggi una IndieWebify.me è quello che vi facevo vedere prima che leggeva le cose dal mio blog e le scorporava qua c'è la descrizione del protocollo delle web mention quello di cui vi stava parlando righez prima e questo è il sito dove vengono definiti tutti i microformati quindi se avete un qualsiasi dubbio su come è fatto un microformato in particolare le specifiche stanno qua detto questo non so voi io mi sono divertito se ci sono domande siamo qua ci sono visto che facebook ci si sta gelentrificando se non si è già gelentrificato perché ormai tutti quanti penso abbiamo qua la zia che condivide i santini nel 2018 su facebook ci sono delle piattaforme che stanno in questo momento nascendo crescendo che hanno un futuro diciamo di rilievo ci sono delle piattaforme in cui gli adolescenti o 18 anni d'oggi comunicano in alternativa facebook dico instagram che è sempre di facebook instagram a quanto pare dai vari articoli che leggo poi abbi pazienza le mie fonti sono il new york times non i log di instagram ovviamente però nel senso sì sembra che instagram instagram e snapchat stanno tirando un sacco a quanto pare se qualcuno ha altre notizie da condividere ben contento perché mi sta sulle balle instagram sì sì beh è una tristezza sta cosa pensavo una risposta più speravo in una risposta più no mi spiega ok grazie grazie peraltro i formati si stessi valutati pensiamo non farli poi instagram ha di buono che magari i film non le possono condividere vabbè dici solo con le immagini scusate non conosco instagram per forza di cose qualcun altro quindi se ho capito bene l'idea di base di indie web è ognuno ha il suo spazio in modo da essere proprietario dei propri dati e utilizzare sistemi esterni per fare il discovery di altre forme o con altri domini dello stesso stile però questo non dà comunque molta importanza al sistema esterno che tu scegli quindi no no aspetta non c'è nessun sistema esterno dove l'hai visto avevo visto la parte di la diapositiva con cui tu mettevi il tuo post sul tuo dominio e poi lo re-link da parte tipo su facebook o twitter esattamente ok no aspetta questo è un modo che hai per continuare a usare questo genere di social network pur avendolo originale sul tuo sul tuo sito questo non è un modo per fare o meglio è anche un modo per fare discovery ma questo è il modo che hai per cominciare ma non ma non è il fine qua è solo un è solo una cosa che ti aiuta a mantenere le comunicazioni con chi non vuole usare questi sistemi se tutti i tuoi che ne so hai 10.000 follower su twitter metti mai che fai improvvisamente smetti tu semplicemente fai il tuo post il tuo sistema tu manualmente linkerai ai tuoi post su twitter su facebook eccetera e la gente che continuerà a usare quei sistemi potrà comunque accedervi in realtà tutta la parte di discovery mi sa che si fa come si faceva una volta quando non c'erano twitter facebook e compagnia ok buon punto immaginate adesso non so che la cosa prenda piede prenda piede tra 10 anni nessuno usa facebook e tutti quanti usano indie web a quel punto lì entra una nuova persona che non so appena ha fatto 13 anni e dalla legge può tirare sul suo dominio vuole incominciare nessuno lo conosce come fa lui a entrare nel sistema uno come fa a farsi conoscere o due come fanno gli altri a scoprire che è nata questa nuova persona magari sono anche interessati al contenuto che lui sta pubblicando o quant'altro per esempio io adesso utilizzo facebook sì vero però non utilizzo per dire che cosa faccio io non so la mattina oppure faccio le foto ai miei mentre sono al mare o che altro semplicemente vado ci sono delle pagine che io reputo molto interessanti di persone che io trovo brillanti vado e seguo la loro attività molto probabilmente è l'uso diciamo è l'evoluzione di quello che una volta era il social media facebook e mi domando come faccio io in una ed è quello che anche mi aspetto da un social come farò io a fare una cosa del genere in un futuro in cui non ci sarà facebook ma ognuno avrà il proprio dominio e io dovrò andare a fare discovery chiamiamolo così manuale è un'ottima domanda non ho una risposta ma quello che mi viene da pensare un possibile esempio è tu la gente o meglio le pagine interessanti su facebook le trovi perché in qualche modo qualcuno che conosce le ha condivise immagino perché è un sacco che non uso facebook abbi pazienza quindi no ok ti dico non ho una risposta è un'ottima domanda parliamone nel senso è una conversazione cioè questo dell'indie web è l'inizio è una conversazione continua effettivamente sono abbastanza sicuro che se vado a cercare sul wiki c'è una pagina che riguarda la discovery non l'ho ancora trovata non l'ho ancora cercata perché non mi era neanche passato per l'anticamera del cervello però probabilmente c'è c'è qualcosa e se non c'è creiamola ci troviamo qua un quarto d'ora ne parliamo facciamo un mini brainstorming e poi lo pubblichiamo non è un problema credo che abbiamo finito il tempo quindi mi sa che cosa c'è? giusto per integrare rispondendo alla tua domanda effettivamente una risposta in questo momento non c'è però ho guardato anche le estensioni del protocollo c'è una che si chiama vouch ed è fatta apposta per creare delle reti di trust quindi diciamo che si potrebbe creare una cosa modificando vouch per dire perché se tu questo è fatto per antispam ok non è la stessa cosa però secondo me è un buon punto di partenza diciamo poi come diceva Clez non abbiamo trovato altro a questo riguardo purtroppo tieni conto che la specifica è stata aggiornata l'ultima volta nel 2017 quindi la cosa è ancora in movimento per quanto sia stabile per carità non stiamo parlando di sperimentale ci sono delle implementazioni già funzionanti e basta io ho finito allora ho capito che avete proposto una soluzione che trova soprattutto il problema di gestire i propri dati e rispettare i protocolli con i quali poi si possa fare in modo che le informazioni possano essere sul web quindi rispettare i protocolli credo che la domanda in evasa rimane lo spreading di queste cose qui segnalo una cosa che è stata cercata di fare che questo social network alternativo sia Mastodon che cerca di ragionare sul fatto che alla fine si è sempre prigionare del fatto che bisogna tenere come detto tu io cosa faccio tengo il mio profilo su facebook perché devo avere contatti con qualcuno che sono altrimenti in altro modo non riesco ad avere e questo alla fine è l'aggancio che fa in modo che gli altri rimangano lì segnalo inoltre che questa cosa agli altri risolve anche un problema da poco è un sistema di pubblicazione di contenuti anche in maniera complessa senza preoccuparsi troppo di come funziona tutto il meccanismo dietro perché tu prendi una foto la pubblichi tu prendi un testo la pubblichi e non gliene frega niente poi sostanzialmente e fin quando si è ostaggi di questa cosa qua diventa un problema liberarsi di questo sistema con chi vorremmo tenere i contatti non avremmo altro modo di tenerli se non con un profilo di facebook molto in breve mastodon è un buon esempio perché utilizza un protocollo che si chiama activity pub che è stato recentemente ratificato dal v3c è una cosa buona per il semplice fatto che qualsiasi cosa abbia la funzionalità parli il protocollo di activity pub quindi non solo mastodon ma per esempio anche peer tube che è un sistema decentralizzato di condivisione video può comunicare con tutti gli altri sistemi che parlano activity pub quindi nulla vieta in questo caso che il mio blog parli activity pub per cui quando pubblico qualcosa tutti i miei follower su mastodon why not lo possano vedere senza che io passi per mastodon proprio direttamente tramite il protocollo activity pub uno può seguire at cletzlab.it per dire e senza che io abbia un protocollo un profilo su mastodon e tutto quello che il mio blog pubblica se parla activity pub lo vedono questo vuol dire che è anche possibile sviluppare applicazioni centralizzate o che facebook si metta a parlare activity pub non succederà mai ma è una cosa che è possibile e che tutti quelli che fanno parte della federazione di activity pub possano vedere anche da sistemi centralizzati o semplici dove carichi la foto ed è su cioè immaginati o un facebook che parli in activity pub chiunque è nella federazione vede questi post può essere fatto con un programma molto semplice o può essere fatto da me manualmente col mio blog e funziona uguale perché parliamo lo stesso protocollo quindi questo esula dal discorso di indie web però è uno degli altri modi per scappare alle piattaforme permettendo comunque a chi vuole farsi le cose semplici di utilizzare cose semplici non so se ok ringrazio tutti della partecipazione